oggi abbiamo realizzato questo memory fai da te per celebrare l'uscita in dvd dei pj musk arriva il natale ciao a tutti oggi vi voglio far vedere come realizzare un gioco fai da te ispirato ai pigiamini e al natale come vedete si tratta di 16 schedine che i bambini devono colorare e che potete scaricare gratuitamente dal mio blog www.bimbicreativi.it partiamo quindi a colorare tutte le tesserine non ci resta che tagliare tutte le nostre tesserine e poi abbiamo finito ok allora una volta che li avete ritagliati tutti non ci resta che utilizzare il secondo materiale che ci serve per questo gioco ovvero i tappi di bottiglia quindi ci serviranno per le 16 tesserine 16 tappi di bottiglia e andremo semplicemente ad inserire la eccoci qua 1 2 ok una volta che avete inserito in tutti i tappi di bottiglia le nostre tesserine come vedete avete due possibilità e in alcuni casi sui tappi di bottiglia ci sono le scadenze diverse quindi questo potrebbe aiutare magari i bambini più grandi a identificare la forma che c'è sotto quindi io vi consiglio comunque di colorare la parte il retro quindi del tappo di bottiglia di nero così da renderli tutti uguali e rendere più difficile l'individuazione della tesserina sottostante quindi quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti.